allora eccoci qua 23 giugno 2013 questo è il secondo video che faccio con il nuovo telefonino e sto in giro con il cane verone e niente sono venuto qui dietro la spiaggia alla spiaggia dietro casa mia e adesso vediamo un po ecco che cazzo è qua vestiti che cazzo vabbè vabbè da namo nero namo te qua e niente tutto ok questo è il mare e sono proprio soddisfatto di questo telefono anche perché adesso insomma è molto più agile per me fare video in giro così improvvisare insomma un video una gag qualcosa e mi mancava uno smartphone come questo per poter caricare direttamente sul canale youtube il video i video che ho insomma sul telefono ora che sta vedendo proseguiamo in direzione rosa dei venti allora e niente sono le sette e mezzo io mi sono fatto una bella birretta aperitivo adesso per smaltirla ci facciamo sta bella camminata e stasera ci guardiamo brasile camerun sud angelo con gian carlo e stasera stiamo un pace così tra amici pochi ma buoni che ultimamente c'è crisi anche di quello ragazzi c'è crisi anche da amici veri e quindi se accontentiamo a tozzi e bocconi riuscimmo a vedere più o meno più o meno tutti vero nerone ehi cazzo dai dai andiamo a far bagno nerone viè viè nerone andiamo a far bagno vieni nerone ehi vieni qua dai nerone vieni qua vieni qua no gli è stato il cazzo vabbè dai nami se ne andate qua oh attento niente se ne andiamo portate qua eh regà è bella la vita però fidatevi ne sta in giro col cane qua cosa c'è qua qua dovrebbe cioè qua ci sta praticamente un piccolo porto un piccolo scaletto una tarsinetta che si sono fatti qua ai proprietari di questo residence mo ve lo faccio vedere che è veramente carino eh dai dai guardate che roba che paesaggi regà che paesaggi andiamo un po' a vedere qua nero cioè regà oggi c'è un evidente alta marea ehi cazzo vai niente regà devo pure assecondare un attimino il cane che pure lui sta in giro non è che andiamo da qua qua c'è sto porticello insomma vediamo com'è l'acqua posso pure zoomare buono nerone bene cagliardo c'è pure lo zoom regà ma che cazzo volete di più c'è c'è la sdraia qui uso free uso free ma certo se c'è il padrone non è che gli si pia tanto bene a vedeteci sopra allora metteteci te metteteci te come direbbe il buon montesi guarda lì va ma regà sto bruciato sto bruciato figo che c'è qui c'è sta una sorta di che roba è aspetta nero che ti sciorgo ma tutto un attimo e sta buono oh a posto short or cane qui c'è sta oh almeno un po' se bagna bravo nerone bello no quella non è buona coglione no no tu già c'è sede devo tornare a casa coglione e niente e niente mi devo inventare adesso ragazzi per fare delle riprese anche che comunque sia vabbè sono sempre nel telefonino però un aestheticam aiuta una piccola aestheticam per per questo telefono una di quelle piccole maneggevoli dovrebbe essere l'ideale la metà di quel metà le dimensioni la metà di quella che ho fatto praticamente sarebbe perfetta perché comunque nerone non è buona namo e niente ritorniamo un po' indietro anche perché la rose dei venti sarà affollata di gente ancora e poi comunque c'è l'alta marea e non si passa per il fiume vabbè io a sto punto regà abbandono il video qui ci vediamo al prossimo video se comincio a fare questi video di vlog bella grazie a tutti